dormite male tutte le notti a risveglio siete più stanchi di quando siete andati a letto non potete continuare così se c'è un problema ci deve essere una soluzione e questa è rappresentata dall'innovativo sistema air system il sistema air system brevetto esclusivo della fabbrica materassi dormiflex da ben 15 anni garantisce un riposo ottimale all'insegna della salvaguardia della vostra salute si tratta di un innovativo sistema traspirante certificato a livello internazionale che garantisce massima igiene e sicurezza contro la proliferazione degli acari questo sistema che permette di sviluppare un flusso d'aria continuo all'interno del materasso si ottiene grazie all'applicazione di una fascia forata in pura cellulosa naturale lungo tutto il perimetro del materasso dormendo i naturali movimenti del corpo esercitano una pressione sul materasso e la presenza dei fori perimetrali permette la fuoriuscita dell'umidità che si è all'interno di esso la fascia laterale del materasso agevola la traspirazione grazie al risucchio di aria fresca esterna che viene canalizzata all'interno del materasso evitando ristagni di umidità e il formarsi di cattivi odori si crea così un sistema di traspirazione continua che permette la formazione di un ambiente salutare e assolutamente poco adatto alla proliferazione degli acari garantendo quindi che i prodotti dormiflex con il sistema air system sono prodotti altamente analergici le caratteristiche salienti di air system sono quindi una maggiore igienicità all'interno del materasso migliorando il riposo una maggiore durata del materasso grazie allo standard qualitativamente elevato un valido aiuto nella prevenzione e nel contenimento delle patologie allergiche un'estrema flessibilità poiché air system può essere applicato a diversi tipi di materassi secondo le esigenze personali di ciascuno per dormire riposando per riposare nella maniera più sana e confortevole possibile la scelta giusta è dormiflex materassai della tradizione italiana dal 1964 i materassi dormiflex sono realizzati completamente in italia con materiali di prima qualità e con una progettazione esclusiva dell'azienda dormiflex associa la tradizione artigianale del made in italy con la più avanzata tecnologia una visita allo spazio dormiflex di marghera in via brunacci vi porterà in un mondo da sogno dove ognuno potrà trovare la risposta più giusta alle propie esigenze